Michele, il mio trasferimento in Svizzera, oggi parliamo di povertà e ricchezza. La Svizzera non è un paese per poveri. Perché questo video e perché questo titolo, diciamo, un po' provocatorio? Allora, vorrei andare a vedere un po' più nel dettaglio, analizzare il discorso della povertà e della ricchezza. Chiaramente questi sono concetti completamente relativi perché in Italia la ricchezza e la povertà, ovviamente relativi, non assoluti, che è un'altra cosa, ma non ne parliamo in questo video, hanno delle soglie molto diverse da quelle che hanno in Svizzera. Perché in Svizzera il reddito medio di una persona è superiore ai 5.000 franchi l'anno, in Italia è molto molto inferiore, probabilmente intorno a un quinto o un quinto è qualcosa. Chiaramente a livello poi di soglie della povertà è diverso, ma questo dipende da quanto è il costo della vita. Quello che ho detto già spesso nei miei video e scrivo anche spesso sulle pagine del mio trasferimento in Svizzera è che quello che conta non sono tanto il reddito e le spese, ma la differenza fra reddito e spese, perché specialmente per chi ha un reddito fisso non sono i nostri clienti, noi fortunatamente lavoriamo con imprenditori e professionisti che diciamo di questi problemi ne hanno fino a un certo punto, anzi quasi nessuno, ma per chi magari è in ascolto, è capitato su questo video, è un dipendente, è un pensionato, chiaramente ha un reddito fisso quindi che non varia nel tempo e qui ovviamente il calcolo che si deve fare, ovviamente rapportando poi lo stipendio che si ha in Italia e lo stipendio che si avrebbe in Svizzera sullo stesso tipo di lavoro va fatto sulla differenza fra lo stipendio o l'entrata e i costi che si vanno a sostenere e nella maggior parte dei casi, credo nella totalità dei casi, dei mestieri, delle professioni e via dicendo, in Svizzera comunque rimangono più soldi alla fine del mese. Questo cosa significa? Che se una persona in Italia ha uno stipendio di 1200 euro e ha di affitto 700, 1200 euro netti, 600 di affitto, 500 di affitto e poi 300 di spesa, 200 della macchina, eccetera, alla fine magari rimangono 100 euro, 200 euro. Ecco, in Svizzera a parità uno stipendio diciamo che può essere comparato ai 1200 netti può essere un 4000 lordi, un impiegato all'idola supermercato che entra a lavorare guadagna questo tipo di cifra. Quindi intorno ai 3200 netti e qui già capite la differenza fra stipendio lordo e netto in Svizzera con quello che è in Italia, ma qui vi rimando a busta paga italiana versus busta paga Svizzera. Con 3200 magari paga 1200 di affitto in Svizzera, 300 di cassa malati, 1500, 400 di spesa, 500 di spesa. Capite che c'è ancora un cuscinetto superiore a 1000 franchi, ok? E quelli sono soldi vostri, sono soldi che voi potete farne quello che volete, potete risparmiare, potete metterli in una pensione privata, potete usarli per i vostri figli, potete fare assolutamente quello che volete. Quindi capite bene che è lì il punto, non è andare a dire ah ma io con la mia pensione da 1000 euro non posso vivere in Svizzera. Certo, è proprio per questo che la Svizzera non è un paese per poveri, fra virgolette, per poveri con i parametri svizzeri, perché il parametro svizzero, diciamo la soglia di povertà svizzera intorno ai 3000 come reddito. Ovviamente se si ha famiglia, cresce. Un pensionato italiano, per farvi l'esempio, una pensione media è molto molto inferiore, inferiore alla metà ma anche sotto probabilmente, e quindi chiaramente sarebbe più che povero in Svizzera. E la Svizzera non è un paese per questo tipo di persone. Quindi i numerosi pensionati che continuano a scrivere anche la nostra pagina, anche se è scritto ovunque, che noi abbiamo come target imprenditori, libri professionisti e dipendenti con redditi elevati che abbiano già un contratto di lavoro in Svizzera cerco di dare una risposta definitiva in questo video dicendo non è il paese per voi. Quindi a meno che non abbiate una reddita pensionistica superiore a 4, 5, 6 mila franchi al mese e ci sono pochi in Italia che hanno questo tipo di pensioni allora non è il paese per voi. Se volete andare via dall'Italia ci sono altre soluzioni ma di cui noi chiaramente non ci occupiamo. Chi invece è dipendente, ripeto anche qui, non è propriamente il tipo di persone con cui noi lavoriamo però ci capita di avere dei clienti che magari appunto hanno un contratto di lavoro firmato e devono venire in Svizzera e quindi utilizzano i nostri servizi logistici, quindi iniziano un po' a ragionare su quello che è il costo della vita di qui per i dipendenti devono capire appunto il costo della vita, il reddito e la differenza fra i due perché questo è determinante. Quindi devono farsi i loro conti, noi siamo aperti anche per le consulenze preliminari in questo senso se le volete, chiaramente per chi è dipendente sono un po' meno convenienti perché non si possono scaricare i costi e magari si capisce che non è la strada giusta quindi ognuno deve fare le proprie valutazioni però chiaramente quello che dovete andare a valutare è la differenza fra il reddito che avreste in Svizzera facendo lo stesso tipo di lavoro e il costo della vita poi da andare a vedere caso per caso. Rispetto a un altro punto che volevo andare a approfondire all'interno di questo video è proprio quello che può essere anche la povertà mentale che noto molto in un certo tipo di immigrazione in Svizzera, fortunatamente che è un po' meno presente negli ultimi anni ma c'è ancora, che è l'immigrazione quella di sostentamento, cioè di persone che scappano dall'Italia soprattutto da alcune aree del paese perché non mangiano, cioè non riescono a trovare lavoro, non ce la fanno e quindi in qualche modo hanno un aggancio o comunque riescono magari parenti, amici eccetera già in Svizzera e riescono in qualche modo con tanti sacrifici a trovare lavoro da questa parte. Ecco in quel caso lì io vedo una povertà mentale molto molto sviluppata nel senso che c'è all'inizio un'aspettativa alta sul fatto che si guadagna molto, quindi se una persona in Italia non riusciva neanche a guadagnare 1.000 euro al mese in Svizzera come minimo 3 se li porta a casa e quindi c'è una prospettiva con 3 faccio una vita, cioè uno pensa 3.000 in Italia, diciamo vivi abbastanza bene e netti, sto parlando chiaramente da dipendente ma il problema è che poi in Svizzera si accorgono che da quei 3.000 devono togliere ovviamente il costo della vita maggiore e quindi lì c'è una povertà mentale di non capire come funzionano le cose e come funziona la differenza perché se io con 1.000 comunque in Italia alla fine mi rimangono 100 e qui mi rimangono anche solo 400 è già una bella differenza. Quindi attenzione per chi capita su questo video e diciamo è in difficoltà in questo momento magari in Italia sta cercando una via di uscita e la Svizzera potrebbe essere il caso anche, ripeto, se non ci occupiamo noi di questo, attenzione a pensare in maniera, nella maniera corretta. Per quanto riguarda il contrario del titolo di questo video, mi sono preso l'appunto qui allora la Svizzera non è un paese per poveri, cioè chi è povero in Italia sicuramente in Svizzera lo sarebbe ancora di più e chi è medio-basso in Italia in Svizzera sarebbe comunque povero e quindi non è un paese per poveri non potrebbero mai ottenere un permesso di residenza in Svizzera questo tipo di persone. Ma, ma, attenzione, la Svizzera non è neanche un paese per ricchi, ok? Perché per venire in Svizzera a differenza di altri paesi o di altre realtà non ci sono requisiti patrimoniali, non bisogna avere una certa ricchezza bisogna semplicemente dimostrare di avere un reddito che permetta di non andare a chiedere dei sussidi o l'assistenza dal punto di vista federale, cantonale, via dicendo. Quindi, a differenza di quello che si creda, non c'è nessun requisito di carattere patrimoniale. Quando uno ha la capacità reddituale, quindi ha la capacità di fare una propria attività o di essere assunto con un contratto di lavoro, semplicemente basta che quel contratto di lavoro o la propria capacità imprenditoriale o professionale vada a portare ogni mese il reddito necessario e sufficiente per sostenersi. Quindi questo è molto importante, non bisogna avere 500.000 in banca, 300.000 in banca, bisogna... No, basta avere anche un piccolo professionista italiano, un avvocato, un piccolo imprenditore che riesca a avere il suo bravo fatturato da 100.000 all'anno, 80-120, riesce comunque a portare avanti una vita del tutto dignitosa anche in Svizzera. E questo è assolutamente importante da sapere. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video.